allora in un'animazione avevo fatto vedere un effetto denominato l'ice tricks che in realtà avevo inventato io e lo utilizzavo come mappa per andare a mappare all'interno di una scritta vediamo sono riuscito più o meno ricostruire l'effetto perché mi mancano delle texture ma più o meno era una cosa così dove c'è una linea che va a scriversi e all'interno c'è una texture con un effetto additivo poi c'era anche un movimento della camera che faceva ancora più muovere questo oggetto perché ruotava attorno eccetera per cui dava ancora più l'impressione che non avesse un moto così rettilineo ecco ma si muovesse stranamente vediamo come ho realizzato questo effetto e con semplici passaggi io parto con un background di fondo colorato può esserci anche il fondo nero comunque e vado a aprire un livello schizzo e l'importante è che le ps generato sia molto mosso anche le ps come ho fatto e ho fatto tutti dei movimenti dei cerchi delle cose così molto irregolari e però poi ho aggiunto la tridimensionalità quindi in pixel angelo premo il tasto ctrl ruoto e invece di avere le ps tutto sullo stesso livello vado a spostare in 3d questi punti in maniera che il percorso si trovi anche proprio su livelli differenti e quindi si muova ancora più irregolarmente diciamo ecco una volta fatto questo percorso che può essere anche molto grande più grande lo fate forse meglio è perché così questa vostra forma particolare di luce si va a muovere io prima l'avevo generato senza ruotarlo ma se lo ruotate presumo che faccia anche un effetto ancora più strano infatti vado a ruotare in 3d vado a salvare questo percorso non serve che indichiate niente se voi non avete percorso vi regalo io questi due percorsi scrivo percorso 2 e adesso qui appunto vado aprire un livello schizzo e vado a riprendere questo percorso 2 che ho fatto andiamo a vederlo eccolo qua vedete un groviglio lo vado a portare più in primo piano e vediamo che questa è una sezione quadrata allora vado a mettere una sezione rotonda per avere più una forma omogenea e questo è il nostro percorso cosa succede se andremo a regolare la scrittura vediamo che questo oggetto si va a scrivere però ha una forma come vedete regolare come dimensione allora andiamo su dimensione della penna e aumentiamo la sua dimensione in maniera che sia più grosso e invece su raggio penna andiamo a restringere vedete questo possiamo allargarlo ottenerlo a largo quanto era il primo cursore il secondo lo andiamo a stringere in maniera che le punte vengano sottili sembra quasi un vermetto adesso lo porto qua la cosa che fa tanto la differenza è la texture comunque già vediamo così come si muove se io vado a scrivere vedete che sembra che questa punta quasi avanzi più morbido è il percorso meglio è quindi avete anche morbido smooth da andare a selezionare per vedere vedete che rende le curve più morbide e quindi ora se vado a giocare con la scrittura vediamo ecco che fluido e questa cosa può servirci anche per disegnare delle luci delle cose così ovviamente questo primo slider deve essere mosso assieme al secondo così sembra che questa cosa avanzi adesso la texture farà il resto perché andiamo a prendere una texture che abbia del nero e del bianco io ho preso una texture che avevo generato in filterforge ma potete usare anche una texture che trovate in internet ecco io invece ho messo questa blu adesso proviamo con la rossa tanto per cambiare e come effetto io adesso rispetto alla prima che avevo fatto ho aggiunto un altro effetto cioè vado a selezionare sotto effetti speciali un uv mapper però additivo perché additivo perché questo farà sì che dove è nero vedete l'immagine scompaia e invece dove bianco sembri quasi un punto luce poi potremo andare a regolare questa texture per decidere la posizione la posizione in questo senso questo essendo che è un tubo quasi non si vede invece possiamo regolare anche la dimensione per simulare cose più particolari vedete qua sembra un fuoco oppure andarlo allargare molto che sembri appunto questi raggi regolari adesso proviamo a farlo più così che è più carino io andrò a regolare anche uno speed perché perché mi farà ancora più impressione che si sta muovendo vedete che bello quindi posso anche metterlo veloce come come preferite e poi possiamo regolare altri fattori della texture così come se andiamo a regolare anche il colore base possiamo andare a dissolvere o aumentare il nostro ovviamente se così diamo una colorazione se volete esagerare coi punti luce potete come avete visto forzare anche è un valore maggiore di 255 però dopo magari sui punti neri vedete è un po meno visibile adesso durante la nostra animazione che regoleremo come durata della presentazione io lascio 15 perché va bene dobbiamo far altro che muovere la scrittura partendo da zero andiamo a creare il nostro permetto e da qua procederemo così a spazi diciamo regolari andiamo a scrivere e a togliere dietro lasciando questa lunghezza più o meno omogenea qua un po' è da calcolare i tempi per cercare di vedere come si muoverà se volete potremo anche andare a ingrossare la penna rimpicciolirla per creare un animazione ancora più strana dove questo permetto va a ingrossarsi allargarsi restringersi di nuovo e fino ad arrivare poi a farlo sparire la fine non è sempre bella perché vedete cosa fa si ingrossa la fine bisogna purtroppo farlo un po' sparire come l'inizio andiamo a vedere e vedete che ora abbiamo questa forma adesso qua un po' lenta però crea questa specie di vermetto luminoso che si muove dipenderà l'effetto tantissimo dalla texture dal colore e dal nostro movimento proviamo a ridurre la durata portiamola a 7 secondi e andiamo a vedere vedete che più veloce e più carino e poi anche importante il colore di fondo proviamo con colori più scuri sul plasma vediamo cosa succede e ecco qua questa nostra forma a fiamma strana per aumentare gli effetti potremo andare sulla telecamera ad esempio proviamo con un effetto camera bloom che andrà a rendere tutto più luminoso andiamo a muovere l'intensità del bloom e ecco qua guardate otterremo anche questo effetto di alone di glow attorno molto molto particolare e qua sempre qua potremo anche ad esempio muovere la nostra camera non lasciarla fissa e quindi andarla a ruotare attorno a questo oggetto andiamo a vedere cosa è successo e vedete che adesso scivola come? perché anche la camera si muove ovviamente sul movimento della camera per renderlo più fluido dobbiamo mettere una curva e non lasciare velocità costante e ecco qua ottenuto questa cosa strana che può se noi riduciamo la dimensione della penna ovviamente sul percorso quindi andiamo sul raggio della penna possiamo farla anche molto molto sottile se ovviamente duplichiamo il nostro oggetto lo spostiamo nello spazio lo andiamo a colorare in maniera diversa e li muoviamo assieme per ottenere due o tre fasci colorati che magari si muovono anche assieme può essere carino e poi potete magari anche sperimentare dando invece di rotondo la stella ecco guardate adesso viene tutt'altro oggetto proviamo qua che perché vedete che crea queste linee interne che sono molto carine che sono molto carine e forse fa ancora più effetto luce ma avete diverse forme per da provare stella così sarà piatto quadrato ecco guardate il quadrato è molto carino perché si vede proprio la sezione quadrata se fate l'oggetto molto grosso così andando a regolare ovviamente il raggio della penna create questo oggetto molto grosso può essere anche molto carino usarlo come color map all'interno di oggetti ad esempio di carattere facciamo la prova ho fatto una scritta franco ora non si vede perché c'è tanto blu e poi ho messo il mio percorso strano all'interno di una color map vado a cancellare la scritta new che viene in automatico sulla color map andiamo a aumentare la risoluzione della color map e aggiungo la trasparenza torno sul carattere e qui vado a selezionare la color map e vedete che all'interno si vede il mio oggetto adesso c'è il problema della telecamera in maniera di portarlo in primo piano sulla telecamera vedete ho delle scritte con quell'oggetto che si vedrà provo a togliere la trasparenza alla color map eccola qua così è più bello senza trasparenza e vedete ho questa scritta che mantiene anche la tridimensionalità perché all'interno c'è la mia color map e movimento questo è molto molto bello come effetto da fare io vado a inserirvi i percorsi i due percorsi e vi do anche questa già pronta perfetto e io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti 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 ciao a tutti